Siderurgica Triestina ha svelato le carte sul futuro della ferriera, chiusura dell'area a caldo in tempi brevi, un piano industriale da 230 milioni e la richiesta dell'aiuto pubblico per realizzarlo, mantenimento dei livelli occupazionali. Questi punti salienti del vertice di ieri al Mise, riportati con soddisfazione dall'assessore regionale Scocci Marro, che alle preoccupazioni espresse con rabbia dai lavoratori replica. In piazza c'era anch'io, da anni ho sempre sostenuto che la riconversione deve essere fatta, abbiamo fatto altro che applicare quello che è il programma elettorale di questa coalizione, riconvertendo tutto in un'industria pulita. Poi il piano industriale prevede la ricollocazione e esuberi zero. Adesso aspettiamo, sarà un lavoro certamente imponente e importante, di andare chi di dovere, quindi tutti insieme, dai ministeri alla regione, a far sì che tutto questo si possa realizzare. Non sarà facile, però insomma abbiamo cominciato a costruire questo progetto. Finalmente c'è un piano industriale, fa eco il Movimento 5 Stelle, con il consigliere Ossai, che sottolinea il ruolo del ministro Patuanelli. Da tre anni che non avevamo un piano industriale, per cui con le ultime mozioni, l'ultima mozione che è stata approvata all'Unione Amità, chiedevamo un cronoprogramma, è finalmente arrivato. Per avere un futuro e per dare un futuro stabile ai posti di lavoro serve un piano industriale. In questi anni non c'è stato, finalmente adesso ci sarà una riconversione che riguarderà sia la logistica ma anche altre attività che potranno impiegare i lavoratori e quindi finalmente siamo arrivati, anche grazie a un ministro del Movimento 5 Stelle, a questo punto di svolta. Sulle mancate garanzie per i lavoratori pone l'accento il PD con il consigliere ed ex sindaco Cosolini. Nessuno era un fan dell'area a caldo a tutti i costi. Oggi il nodo vero è quali garanzie occupazionali si danno alle centinaia di lavoratori che erano direttamente o indirettamente interessati all'area a caldo. Dalle istituzioni, regione in primis che ha avviato questo processo, ci attendiamo di sapere quali sono le prospettive per tutti gli altri lavoratori, perché il diritto al lavoro va garantito anche in questa fase che si è aperta. Grazie a tutti.